Bella a tutti ragazzi e bentornati qui con un nuovo video Questo video è il continuo del coperchio punterie Come avevo detto non ho più rimontato la box proprio per questo motivo Perché oggi andremo a smontare il gruppo farfallato Perché è molto sporco Infatti come vedete qui all'esterno A causa dei dubbi vapori Eccolo in cui vedete che è tutto punto d'olio E andremo a pulirlo anche per vedere dentro Oltre la farfalla come sta messo il gruppo Quindi cosa ci occorre? Al momento ci servono solo Ci servono solo una 30 tors Una prolunga e un cricchetto O come preferite voi comunque Mettete una 30 tors su una 10 su una auto Come volete voi Come vi trovate meglio insomma Quindi procediamo nel togliere Tutte e quattro Le vedi In questo modo Una Due Sono un po' dure Perché siccome sono a pulire sulla plastica Anche quando andremo a rimontarlo Bisogna fare attenzione a non spanare la sede Perché sotto abbiamo Il gruppo farfallato si alloggia Sull'aspirazione Quindi in plastica Ok Togliamo l'ultima Nelle quattro E dobbiamo fare anche attenzione A quando togliamo il gruppo Nella guarnizione Sottostante Questa fa Ma un po' dura Ma la togliamo Allora Una Due Tre E quattro Allora In questo caso adesso Il gruppo Già Si può togliere Però Prima Dobbiamo togliere questo connettore Qui Quindi Uniamoci di un casciare spaccato Un attimo solo che lo prendo Eccolo qui Allora Togliamo la linguetta Gialla E spingiamo Su questo Come in questo modo Linguetta gialla indietro Verso di là E più pressione Su questo tasto E sfiliamo Ok Una volta fatto ciò Apriamo anche questo Aspetta che non si vede Questo componente qui Diciamo un fermo Per questo tipo Quindi l'abbiamo In modo tale Che ci dà meno fastidio Stessa cosa Anche su quest'altro Che rendono Il cavo Che È collegato all'acceleratore Perché Nei vecchi gruppi termici La farfalla Si apriva grazie al cavo E adesso È auto Tutto tramite cavo Cioè scusate Tutto tramite Elettronica E quindi Non è più presente Il cavo dell'acceleratore Allora Vediamo se riusciamo a togliarlo Scusate Ma è un po' un macello Perché sono da solo Come sempre Il mio socio Dovrebbe Ripresentarsi Un giorno di questi Ok E togliamo Il gruppo Facendo attenzione Che non caschi neanche nulla Dentro i collettori Di aspirazione Adesso Dobbiamo Dobbiamo trovare Solo il modo Di far uscire Il gruppo Da tutto questo macello Ecco qui Il nostro gruppo Ora Prima di Andare sul banco Chiudiamo il buco In modo tale Come abbiamo detto prima Non entra nulla dentro Adesso ci trasferiamo Sul tavolo Arrivati a questo punto Procediamo Con la Nel pulire Il gruppo Che come vedete Qua dall'esterno Risulta abbastanza pulito Però io Per scrupolosità L'ho smontato Per vedere Se anche all'interno Ovvero questa parte Che non è visibile Era bello pulito E in questo caso Sì Perché Vi assicuro Che ce ne sta Molti Ma molti Di peggio Quindi a questo punto Noi procederemo Nel pulire Ovviamente Dove era sporco E comunque Sia Gli diamo anche Una pulita Direttamente Qui intorno Alla farfalla Perché qui Solitamente È sporca Come fare quindi Ho preparato In una bacinella Un po' di benzina Mischiata Con dell'acetone E natta Quindi Intingiamo Il nostro pennello Nella soluzione Procediamo Nel pulire Il nostro Gruppo Come vedete Già appena Appoggiamo Con la benzina E l'acetone Pulisce Facendo attenzione Però All'elettronica E di lasciarla Sempre nella parte Più alta In modo tale Che il liquido Non entri Nella componentistica Elettrica Quindi Puliamo Il suo esterno E intingiamo E puliamo Come vi dì Stavo dicendo Così Verso L'alto Anche solo Che entra Questo Servirebbe Un pennello Più piccolo Trovato Trovato solo Questo Però Basta Che fa Quello Che deve fare Insomma Anche solo Mandando Del liquido Dentro Come vedete Scioglie Praticamente Tutto Quindi Facciamo Viscolare Intingiamo Di nuovo Andiamo Dalla parte Posteriore Stessa cosa Sempre elettronica Verso L'alto E puliamo Il nostro Gruppo Come vedete Esce lo schifo Anche se Sembrava Di non esserci Per fare Una cosa Ancora Meglio Allora Con le dita Da dietro Spingete Piano piano La farfalla E tenetela Aperta Per pulire In questi Lati Dove non arrivate Con il pennello Quindi Una volta Aperta Procediamo A pulire Le parti Tipo Più Scomode E come vedete Si inizia A lucidare Per bene Ok Stessa cosa Riprendiamo La farfalla In questo modo La teniamo Facendo attenzione Che non scappi Che comunque Stiamo forzando Il meccanismo Ok Prendiamo un pezzo Scottex Poliamo La nostra sede A entrambi Cercate di farla Asciugare Il più possibile Tanto se rimane Qualche gocciolina Comunque sia Essendo benzina E acetone Evapora Quindi Non vi preoccupate Ok Come vedete Già È molto Più lucido Stessa cosa Di qua Ok Procedo Intanto Non pulire L'esterno E ci vediamo Tra poco Ragazzi Sparmiato Il momento In cui inserivo Il gruppo Perché Era un po' Complicato Con una mano Quindi Ho solo Riposizionato Il gruppo Al suo posto Facendo attenzione Come detto prima Alla guarnizione Sotto E quindi Adesso Procediamo Come prima cosa Subito il connettore Non ce lo dimentichiamo Perché Se no Ci fa Accendere La spia Quindi Connettore Subito E linguetta Dietro Confermo A chiudere Appuntiamo A mano Tutti E quattro I bulloni Poi Procediamo A stringerli E abbiamo Fatto Come avete visto Non è una cosa Difficilissima Quindi chiunque Può farlo a casa Questo serve Soprattutto Quando sentite L'auto Che si inghiozza Oppure Non prende il gas Bene Questo perché Perché La valvola Ma se si riempie Se si riempie di sporcizia Fa fatica In automatico Ad aprirsi Che comunque Sia L'elettronica Si Ha un motore Dentro Dietro Che lo fa girare Comunque C'è qualcosa Che lo struisce Per far aprire Quella valvola Questa qui Intendiamoci E quindi Potrebbe a volte Non prendervi il gas Perché non riesce A fare aprire la valvola E questa pulizia Serve a lui A quello Continua a stringere Le quattro viti Richiudo Questa Fascetta E Nulla Questo è quanto Per oggi Quindi ci vediamo Al prossimo video Sempre su quest'auto Perché ci sono Delle cose da fare Ricordo Un grande punto 1.4 benzina Con impianto a gas E quindi ragazzi Al prossimo video